Se siamo riusciti finora a scongiurare la realizzazione di un impianto di rifiuti inerti sostenendo a gran voce che la vocazione della vallata di Fontenocera non è sicuramente quella di una zona industriale non è stato possibile allo stesso modo impedire che a gettare cemento nella nostra verde vallata fosse proprio l'amministrazione guidata dal vice sindaco Antonini torna ad alzare la voce il gruppo di minoranza di poggio nativo infatti il 15 luglio scorso i cittadini sono stati svegliati da ruspenazione hanno dichiarato i consiglieri di Amilla, Guidi e Giuliani l'ufficio tecnico ci ha informato che erano stati avviati i lavori per la realizzazione di un centro di raccolta per lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta appena avviata tutto ciò senza che nell'albo pretorio vi fosse traccia di delibere che sono state poi pubblicate a seguito delle nostre richieste ma cosa apprendiamo dalla lettura di tali atti? che l'area in questione è la stessa sulla quale il comune aveva già presentato nel 2013 a provincia e regione una richiesta per autorizzare la realizzazione di un impianto di compostaggio comunitario per il quale aveva tra l'altro ricevuto un finanziamento regionale di 192.000 euro nel 2012 autorizzazione mai arrivata in quanto il progetto faceva acqua da tutte le parti questo è quello che ci ha al momento confermato anche la provincia a cui abbiamo inoltrato immediatamente una verifica dei lavori in corso forse a seguito della nostra segnalazione dell'intervento della provincia del corpo forestale a cui abbiamo presentato un esposto visto che a nostro avviso quello che si profilerebbe ad oggi è un abuso edilizio anche l'amministrazione Carconi Antonini si accorta che le cose non erano state fatte come si doveva infatti hanno improvvisamente fermato i lavori con una determina di autosospensione dell'ufficio tecnico inoltre il terreno in questione non è di proprietà del comune hanno continuato dalla minoranza ma della costruzione SRL l'altra società insieme alla res SRL della famiglia Zossolo che sembra averlo messo a disposizione del comune con un contratto d'affitto ventennale per un canone di 500 euro l'anno insomma anche questa volta ci chiediamo se sono stati valutati realmente gli interessi generali considerando che ad oggi il nostro comune rimane sprovvisto di un centro di raccolta tanto da aver chiesto al comune di Castelnuovo di Farfa l'utilizzo dell'oro